Questo vino ha avuto una storia molto vivace, ha avuto delle crisi grossissime e ultimamente i giovani produttori, assieme alla generazione prima di loro che hanno una grande esperienza, hanno rivalutato questo vitigno La Schiava e riducendo la produzione e andando sulla qualità hanno fatto sì che questo vino, oggi come oggi, ha una qualità eccezionale, è pluripremiato tutti gli anni dai diversi degustatori ed è finalmente arrivato il tempo di dare il valore di questo vino Santa Maddalena Classico che è praticamente uno dei due vini fondamentali della città di Bolzano.